è inutilizzato per la diarciocittina, per la prima linea qualitativa al fasciare è una pressatura soffice, è quindi la classica metafora che contiene un acido che va già allo condita di una pressatura molto soffice dopodiché passiamo a una seconda pressatura dove praticamente andiamo a ritenere il primo flore che è leggermente di qualità inferiore ed è utilizzata per la battuta